La nuova macchina Lilliput per il frozen yogurt ed il gelato mantecato espresso è la più piccola e potente del mercato. Veloce nell'installazione e semplice da utilizzare. Potrai offrire in pochi secondi gustosi gelati e frozen yogurt grazie ad ingredienti di altissima qualità per ricette semplici e golose. Costruita interamente in acciaio, basso consumo grazie alla tecnologia inverter, agitatore nella vasca, lavaggio automatico, mantenimento notturno del prodotto, ne fanno una macchina senza eguali. Potrai preparare ai tuoi clienti coppe di yogurt e gelato, milkshake, spaghetti ice, fettuccine ice, brioche e maritozzi farciti. Menù fotografici e roll-up pubblicitari per un'immagine di sicuro successo. Per te, video guide, video ricette e un numero dedicato di assistenza. Anche incomodato comprando i nostri prodotti. Regala al tuo locale un angolo di gusto. Italian Slow Food, lavoriamo al tuo fianco.